ciao ragazzi buonasera a tutti buonasera a tutti io io sono veramente io quando quando vi scrivevo mi vergogno io mi vergognavo di quelle vittorie lì stasera capite dov'era la mia vergogna ma tanto non lo capirete perché appena vinceremo contro altre due squadrette di merda va bene verrete a dire chiedi scusa ad allegri perché voi siete quello voi siete l'anticalcio come il vostro allenatore che tanto amate voi mi dovete spiegare con che logica lui ha messo questa formazione in campo stasera mi spiegate con che logica ha messo questa formazione in campo chiesa a fare il tercino destro locatelli fuori ruolo mckenny fuori ruolo chiesa fuori ruolo di maria che poveretto si è fatto un mazzo tanto che non si sapeva neanche lui dove giocava ma lo volete capire quando vi dico polvere sotto al tappeto polvere sotto al tappeto ci vedono le montagnette dopo un po non ci capite un cazzo voi di calcio se avete un problema che parlate tutti possono parlare di calcio ma in pochi lo capiscono voi non ci capite nulla non ci capite nulla venite fuori con la storia chiunque qual è l'allenatore che dopo monza avrebbe risolto questa situazione ma chi ci ha portato a fino a monza chi ci ha portato sempre lui ci ha portato poi gli va di culo due tre quattro cinque sei partite recupera un po ma appena trovi una squadra ma attenzione non più forte tecnicamente organizzata una squadra che gioca a calcio ti umilia come ci hanno umiliato il champions league ma voi non ci capite nulla come mai nessuno è venuto stasera oltre 1200 persone in live che sono ancora in live io nessuno è venuto a dire chiedi scusa d'allegri gianni chiedi scusa d'allegri adesso a chi è che dovete chiedere scusa a me io non le voglio le scuse sul mio carro c'è sempre posto sul carro di di per imparare qualcosa nel calcio c'è sempre posto per tutti sono io che non ci voglio venire sul vostro carro perché il vostro il carro dell'ignoranza il vostro il carro del risultato subito ma poi non c'è niente di costruttivo intorno voi non ci capite nulla ma non è colpa vostra e ripeto per l'ennesima volta finché me lo dice un ventenne un quindicenne posso provare a capire ma quando me lo dice gente i 40 anni 50 anni 60 anni che fa questi discorsi qua vuol dire che non ci hanno capito un cazzo e non ci capiranno più un cazzo dove ditemi la logica di questa squadra qua ditemi come gioca questa squadra qua questa è una squadra che non ha futuro un allenatore che non è capace di costruire un'azione da gol perché anche il gol che ha fatto di maria hanno avuto tre rimpalli quelli che hanno sbagliato due volte il rinvio è la vergogna delle vergogne vergognatevi vergognatevi umiliati umiliati anche stasera umiliati adesso contatemi clean sheet la miglior difesa del campionato gli mortacci i vostri ma di che cazzo parlate non parlate di calcio non parlate non parlate più di calcio vergognatevi chiedete scusa ai tifosi della juve non ai tifosi di allegri voi tifosi di allegri dovete chiedere scusa ai tifosi della juventus siete patetici siete vergognosi non ci capite nulla oggi non ci capivate nulla ieri non ci capirete nulla domani è inutile è inutile e adesso vediamo come cazzo va a finire con l'atalanta perché appena trova una squadra organizzata questo e che c'ha qualche giocatore più forte è finita è finita stasera chi gli mancava dai di maria cera chiesa cera paredes cera milic cera c'è chi ah mancava vlaovic ma vlaovic era quel vlaovic che non va d'accordo con allegri perché non tocco non gli danno una palla in tutta la partita e quel vlaovic che manca o manca pogba chi è che mancava stasera per l'ennesima volta giù fagioli il centrocampo non ci ha capito un cazzo ma lui non c'ha le palle per schierare fagioli non c'ha le palle mette locatelli fuori ruolo ma non c'ha le palle per schierare fagioli fagioli l'ha fatto entrare voi dite lui ha lanciato la che ha lanciato la fagioli io ve l'ho detto dall'inizio crisantemi si è guardato intorno non c'era più nessuno ha buttato dentro fagioli ma perché non ci capite un cazzo ma cos'è che vi deve dimostrare ancora questo perché voi cominciate a ragionare col vostro cervello la vergogna delle vergogne umiliati per l'ennesima volta tifosi di allegri dimettetevi andatevene a fare in culo voi e il vostro allenatore di merda grazie a tutti